Ed eccoci qua, signorina L, signorina L, manteniamo l'anonimato, perdonami per il ritardo, ti rispondo con un mese di ritardo, però ho difficoltà a registrare e dar risposte video alle vostre mail. Ho letto però con attenzione quello che mi ha scritto, mi sono preso anche in questo caso qualche appunto e faccio un piccolo riepilogo in modo che sia io, sia te, sia se qualcuno guarderà un video riusciamo a collocarci nella storia. Tu mi hai scritto Riccardo, io ho 26 anni, lui ha 10 anni più di me, siamo stati insieme 5 anni e mezzo dopo che lui ha lasciato la sua ex. All'inizio siamo andati ad abitare insieme, lui è un artista, ha adibito il suo studio d'arte a casa, all'inizio era tutto bellissimo, mi prometteva Maria Monti, poi un mese fa addirittura ha detto non vedo l'ora di darti l'anello di matrimonio e dopo 2-3 settimane ha detto che non ti amava più. In definitiva è questo un po' il rissunto di tutto quello che ti ho raccontato, mi hai detto inoltre che dopo questa separazione per lavoro vi rivedete, c'è questa forte attrazione, siete tornati a dormire insieme, avrete fatto sesso, ma lui ti ha detto non voglio impegni, dice di essere innamorato di te, ma non vuole impegni, dice di essere geloso, ma non vuole impegni, e tu mi dici io ami qualche consiglio perché io lo amo e lui mi ama, più o meno è questo. Ok, l'ultima frase, io credo che lui non ti ami, non che non provi qualche cosa per te, ma io credo che lui ami se stesso più di tutti, perché se tu ami realmente una persona, fai sesso con lei, ma poi non le dici che non vuoi impegni, se tu ami realmente una persona, dici essere innamorato, e se sei innamorato vuoi stare con lei, se tu ami veramente una persona e sei geloso, vuoi stare con lei, non dici che non vuoi impegni, quindi io credo che lui in primo luogo ami se stesso, e te lo dico, può sembrare un po' duro, un po' diretto, però credo sia importante che tu sia consapevole, riesca a vedere da fuori la situazione come la vedo io, lui probabilmente ha un grande affetto nei tuoi confronti, però quando tu sei innamorato di una persona vuoi stare con lei. Ora, una soluzione, dici Riccardo cosa posso fare? Una soluzione, come in altri video, in casi pratici, o cosa fare a bc passo dopo passo, per me in questo caso è difficile, perché questo tipo, a detta tua, è un artista, e leggendo quello che tu mi scrivi, io credo che lui viva degli stati emotivi molto intensi, e li definisco le montagne russe, cioè lui è capace di vivere grandissimi amori e all'improvviso dal paradiso ti porta all'inferno, quindi è questa fase di montagna russa, altanelante, alto, energia e tristezza, energia e tristezza, questo è vivere le montagne russe in maniera costante, e tu se sei salita su questa giostra, se stai ascoltando lui, lui ti ci porta in queste montagne russe, perché è il suo modo di vivere, il suo modo di sentire le cose. Ora, cosa potresti fare? Io mi sono accorto che in gran parte delle relazioni, cioè una delle due parti è quella dominante, magari in alcuni aspetti è una persona, in alcuni aspetti è un'altra, però in linea dei massimi è un rapporto dei due, c'è una persona che lidera la relazione. E funziona la relazione a volte proprio perché c'è una che è leader e un'altra che segue. Quando, se tu provi a cambiare, invertire i ruoli, ovvero quella che segue gli dai del compito di liderare, non è accapace e la situazione crolla. Te lo dico perché l'ho visto, ma perché in molti casi anche l'ho vissuto. E la situazione in effetti è crollata. Quindi ti dico, probabilmente se tu continuerai a lasciare liderare lui, a essere lui quello che gestisce la relazione, tu vai dietro, e lui è un vantaggio perché ha dieci anni più di te, no? Quindi tu da uno di dieci anni di più di te ti aspetti qualcos'altro, no? Però se il suo modus operandi è quello, lui sarà sempre così. Lui tende a liderare questa relazione e tu lo segui, probabilmente vivrai, anche se tornassi con lui, costantemente su delle montagne russe. Il mio invito è invece quello a provare a essere tu, essere tu a gestire la relazione per come la vorresti. Come fare? È più complicato. Se ti dovessi riassumere in un'espressione, ti terrei nel momento in cui tu smetti di aver paura di perdere qualcosa, riesci ad aver quel qualcosa. Cioè, nel momento in cui tu smetti di aver paura di perderlo, riesci ad averlo. E a quel punto decidere come devono andare le cose. Quando tu hai paura, giochi in smontaggio, no? Immagina due squadre di calcio. Una squadra che ha paura di perdere sarà una squadra che gioca in difesa, che aspetta l'avversario. Una squadra che gioca per vincere sarà una squadra invece più rivolta all'attacco. e se una si scontra, una che ha paura di perdere con una che ha voglia di vincere, in genere vince la seconda. E la stessa cosa la dico nelle relazioni. Nel momento in cui tu hai paura di perdere una donna, la tua mente è diretta verso la meta sbagliata. E ti consiglio di far questo. Decidere di star bene tu, prima cosa. Stai bene tu, mettiti in forma fisicamente, mettiti in forma mentalmente, e dimostragli di non avere questa dipendenza nei suoi confronti. Quando ti chiede di andare a letto con lui, non c'è andare, perché ci rimetti solamente tu, ma non perché tu ci rimetta al livello che ti concedi. Non è questa l'idea. Perché tu... C'è questa ossitocina che viene prodotta durante l'orgasmo femminile che è più forte rispetto a quello maschile e crea una maggior dipendenza da parte tua nei confronti suoi. Nel caso dell'uomo non funziona così. Quindi, evitando di far sesso con lui, tu riesci a essere più distaccata, più lontana. Io sono convinto che se lui comincia a seguire te, vede che sei tu che non lo vuoi, sei tu che ti fai inseguire, la dinamica potrebbe cambiare. Ecco, in questo caso è diversa. Non riesco a darti una soluzione passo dopo passo, perché è proprio la persona con cui ha a che fare che è diversa. Quando tu ti trovi nelle montagne russe, però, non far guidare lui. Non c'è andare più in queste montagne russe. Portalo tu dove vuoi andare. Questa, secondo me, è la soluzione. Ok? Mi dispiace, signorina L, non essere stato più chiaro, però da una mail ho troppo un po' di difficoltà nell'esserlo, darti qualche aiuto concreto. Però spero che questa visione ti abbia aiutato. Se la dovessi riassumere, ti dico, prendi tu il controllo, cerca di star bene, e quando tu stai bene, vedrai che sarà lui a desiderare te, e tu guiderai la relazione. Non la far guidare a lui, perché ti porta sulle montagne russe. E la prima cosa che io toglierei, non l'amicizia, quella ti serve poter parlare, poter flirtare, ma toglierei il sesso. In modo che tu hai un'arma da poterti giocare. Tutto qua. Spero di essere te stato d'aiuto. Ti auguro una buona giornata. Ciao.